Quindi gradualmente emerge il dramma di una situazione di abuso nella quale si è trovata coinvolta a causa di un compagno o della madre che praticamente ci ritroviamo a crescere tra le nostre mani perché non ci rendiamo conto neanche noi come neanche lei in realtà di quello che sta succedendo è una realtà che prende corpo progressivamente ed è anche un romanzo, con questo chiudo la mia introduzione per passare la parola a Valentina è un romanzo anche nel quale siamo posti di fronte a uno spaccato di quella che è l'Italia degli anni 70